amici bentornati sul canale 9000 giri auto sportive anche oggi facciamo una trasmissione intanto ne abbiamo fatte già diverso intanto facciamo una trasmissione diciamo di da scalica prendiamo un argomento più o meno frequente e vediamo di spiegare quelli che sono magari le soluzioni o le problematiche inerenti a quel tipo di argomento allora noi spesso lavoriamo sull'impianto frenante quindi cambiando dischi e pastiglie mettendo ovviamente dischi e pastiglie nella grande maggioranza più sportive abbiamo descritto le varie tipologie di dischi e le varie tipologie di pastiglie nelle quali appunto non entrerei perché si è andata a vedere appunto diversi filmati abbiamo spiegato appunto che cosa significa la mescola sportiva stradale il disco con lavorazione sulla faccia dell'esterna e il discorso dell'accoppiamento fra disco e pastiglia sportiva per ovviamente avere un beneficio in termini di accorciamento della frenata l'argomento di oggi non riguarda le caratteristiche del dei materiali quanto una delle problematiche che ogni tanto capitano quando si va a sostituire ma questo indipendentemente dal fatto che siano materiali sportivi o materiali egonistici ogni tanto capita che il cambiando il materiale in frenata diciamo emerge un fischio fastidioso proprio nell'ultima parte della frenata emerge un fischio fastidioso allora diciamo le questo tipo di problematica può derivare da due cose uno nel momento in cui uno mette dovesse mettere una pastiglia troppo aggressiva con una pastiglia decisamente sportiva quindi con più carbonio con ovviamente delle pastiglie che ci sono adesso purtroppo c'è non purtroppo per fortuna l'amianto non viene più utilizzato l'amianto era uno dei componenti che andava a smorzare molto questo questo effetto di fischio veramente fastidioso l'amianto sono tanti anni che non viene più utilizzato e non hanno trovato nessun tipo di materiale che possa diciamo risolve questo tipo di problema detto questo se uno utilizza un una pastiglia troppo aggressiva è ovvio va di 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 conseguenza che un minimo di rumore questo lo debba avere se voi avete mai guardato un filmato di una qualunque macchina da rally o di una di una di una corsa in salita qualunque cosa le macchine in frenata fanno rumore decisamente molto molto caratteristico e molto fastidioso cioè a livello stradale avere una macchina che fa questo questo rumore veramente fa un rumore di ferraglia pazzesco però un conto è utilizzarlo per un determinato tipo di scopo e durante una gara un conto è utilizzarlo in strada che uno se fa una frenata e fiscano in quella maniera lì freini la gente per la strada si gira e questo ovviamente è una parte del problema noi non utilizziamo quel tipo di pastiglie estreme a livello stradale perché sarebbe veramente un errore però capita abbastanza non dico abbastanza spesso però può capitare che andando a cambiare dischi e pastiglie anche ripeto come detto prima non sportino con materiali sportivi la problematica di questo rumore di questo fischio emerga e anche in maniera più o meno evidente più o meno fastidiosa allora lì ci sono ripeto non c'è nulla di drammatico non è un problema di materiali cioè l'importante che uno cambi come abbiamo detto facciamo sempre dal concetto di cambiare disco e pastiglia mettendoli nuovi perché chiaro che se uno monta una pastiglia nuova su un disco usurato questo discorso del fischio soprattutto fintanto che la pastiglia non ha come si suol dire in gergo copiato il disco che ha appunto delle rigature è evidente che la robosità uno ce l'ha però noi consigliamo sempre nei limiti del possibile a meno che ci sia la pastiglia consumata del disco ancora semi nuovo di cambiare entrambe i trami componenti quello che bisogna su quale bisogna prestare molta attenzione è a livello di montaggio e soprattutto a livello di andare a controllare determinati punti per cui se lo facciamo noi sappiamo esattamente i punti dove dobbiamo controllare se lo dovete fare voi perché comunque cambiare una coppa di dischi e pastiglie lo potete fare tranquillamente anche a casa per gente che appunto un minimo di umanualità e gli attrezzi sufficienti il diciamo il gli aspetti che suggeriamo di controllare sostanzialmente sono nel momento in cui questa è una pinza qua manca il porta pinza perché adesso in casa quando non avevo un porta pinza porta pinza è la staffa sulla quale viene montata la pinza che a sua volta viene vincolata al mozzo della macchina questa questa staffa di supporto che sostanzialmente è una c in in acciaio a diciamo due caratteristiche sono molto semplici a delle asoline di scorrimento dove appunto entreranno le sedi delle delle pastiglie questa pastiglia qua alla fine a delle come dire delle piccole asole che scorrono la parte sotto che scorrono su questi canalini fatti in in materiale generalmente sono in rame o comunque anche in alluminio non hanno diciamo una 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 specifica a livello di materiale precisa ecco queste asoline qua spesso con l'utilizzo delle cioè con e quello che è il residuo delle pastiglie si vanno a sporcare sono si sporcano di questo ferodo che si deposita all'interno di queste gole e il lo sco e il fatto che si depositi questo materiale fa in modo che lo scorrimento della pastiglia a seconda che appunto venga premuta dai pistoncini non ritorni in sé di maniera perfetta quindi la prima cosa da fare assolutamente con i classici spray ce ne sono in commercio tantissimi quando uno smonta la cosa migliore appunto è smontare anche proprio togliere la pinza chiaramente non la tubazione perché se no bisogna poi anche sfuggare il circuito agganciando la pinza alla solitamente si aggancia alla molla pulire bene tutta la parte di supporto del porta pinze in particolare queste due gole che ci sono sulle quali appunto come dicevo scorrono i diciamo le 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 gli angolari delle pastiglie e soprattutto ci sono i gommini con queste viti che hanno appunto una determinata lubrificazione che anche quelli sono i gommini che servono per fare in modo di fissare il porta pinza e che comunque devono avere devono avere un certo scorrimento quindi la vite chiude però il porta pinza deve potersi muovere e quindi deve scorrere su queste viti che all'interno di questi gommini devono essere ingrassate quindi la cosa più logica è togliere queste viti ingrassarle con grasso ramato anche quello è il diciamo il materiale meno stanno attenti a non andare a diciamo mettere il grasso sulle parti chiaramente di contatto fra il disco e la pastiglia quindi una volta pulito tutto le guide di scorrimento di queste viti si rimonta tutto adeguatamente prima di montarlo una cosa da fare sicuramente perché dipende poi dalla dall'usura dai chilometri che fatto la macchina è dare una pulita e controllare lo scorrimento dei pistoncini in questo caso è un 4 pistoncini poi sono pinze a due pistoncini a 4 a 6 dipende quindi pulire smontare la pinza prima di rimontare le pastiglie controllare bene che le guarnizioni dove scorrono i pistoncini siano perfettamente integre poi da lì chiaramente potrebbe uscire l'olio quindi la pinza potrebbe non avere più efficienza ma soprattutto pulire perfettamente e controllare lo scorrimento anche lì c'è un diciamo uno spray apposito per fare in modo che il pistoncino scura nella maniera più logica una volta poi altra cosa da fare anche lì bisogna avere l'accortezza di pulire con una spazzola metallica il mozzo dove viene accoppiato il disco freno in maniera tale che deve accoppiare in maniera perfetta ci sono e anche lì il segreto quello di mettere questo grasso ramato nel punto di contatto perché anche lì il calore fa in modo che noi ci troviamo tante volte con delle macchine dove magari chi aveva fatto il lavoro precedentemente l'aveva fatto un po di fretta non aveva messo il grasso ramato e abbiamo trovato veramente a volte con il martello di gomma con una bella difficoltà non si erano proprio incollati i dischi al mozzo quindi un segreto per facilitare il lavoro di chi poi farà la situazione successiva è quello di mettere questo grasso ramato nei punti precisi quindi nel punto di contatto prima pulendo perfettamente alla faccia del mozzo con la spazzola metallica grasso ramato si mette il nuovo disco freno e poi lo stesso grasso ramato si mette sulla parte di contatto cioè sulla faccia posteriore delle delle pastiglie quindi questa parte qua sotto di contatto in maniera tale che anche in questo modo lo scorrimento del pistoncino e la pastiglia non si vada incollare con il pistone di scorrimento ecco sono delle piccole cose non diciamo che nel 90 per cento dei casi seguendo questa procedura questo discorso del della macchina che in frenata crea questo questo fischio fastidioso scompaiono quindi spero di avervi dato due indicazioni chi diciamo pratica diciamo che è esperto di meccanica sono cose assolutamente banali e note però c'è sono tanti nostri clienti che ci chiedono come poter risolvere questo problema perché magari a casa si dilettano nei fai da te quindi mi raccomando ecco l'ultima cosa sempre nel fai da te mi raccomando sulle coppie di serraggio delle viti sia della staffa che devono arrivare a un certo certi newton metri sia della delle delle viti che chiudono la pinza sul 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 porta pinza che hanno due gradi di tensione diversi a livello di dito metri quindi mi raccomando se fate i lavori cercate di farli bene quindi dovete stringere nella giusta maniera perché stringere troppo rischiate di spanare il bullone che stringere troppo poco significa che dopo un po la pinza balla e al di là del fischio la macchina chiaramente non frena in maniera adeguata quindi mi raccomando siccome si tratta di cose di sicurezza se lo fate a casa fatelo con gli attrezzi e con quel minimo di conoscenza tecnica in modo tale che d'accordo risparmiati i soldi non portate la macchina del meccanico però almeno fate il lavoro è fatto in maniera eccellente io penso di avervi dato delle informazioni corrette per qualunque cosa potete comunque come di consueto inviarvi le vostre domande alle quali io risponderò a tutti mi potete chiamare in sede dal lunedì al venerdì quando volete o sono sempre disponibile cliccate sul campanello e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo un saluto alla prossima